Salute world, siamo Anonymous. Stiamo parlando di esperti dell'inganno che in cambio di lauti compensi è un patrighino nelle istituzioni, e scogicano come rendere Berlusconi al di sopra della Costituzione. Il fare macchiavellico dei legali di Berlusconi inganna la gente, anche i più esperti, al contrario di quanto si crede in questo momento la grazia a Berlusconi sarebbe deleteria. Infatti se amnistiato, Berlusconi a breve si ritroverà comunque con una nuova condanna d'arresto definitiva, quella del caso lui, quindi in maniera macchiavellica lui per il momento non ha chiesto alcuna grazia, ha mandato i suoi scagnozzi le cui richieste hanno solo un fine propagandistico a preparare la strada, la grazia deve essere concessa dall'interessato, mentre invece ciò pubescamente non è avvenuto, abbiamo assistito ad una fagliacciata che ha l'unico intento di creare i presupposti. Il ricevere ora la grazia di Berlusconi sarebbe deleterio, aspetterà quindi che gli altri carichi pendenti giungano in definitivo. Televisione e giornali, sono osserviti al potere, Berlusconi è un soggetto inelettibile che si regge sulla propaganda mediatica, non crediate ad una sola parola di ciò che vi dicono. Distruggete questo messaggio.